Ma ordiniamo su Burgess, per favore? Devo ordinare quello per te, bro. 2 euro. Grazie mille ragazzi, me ne vado fieramente. Con il terzo posto vi voglio bene e apprezzo i complimenti che avete fatto, ma mi sono rivelato prima perché magari poi inconsciamente avrebbe condizionato. Frullato sei tu! Era lui, era lui. Era che pagamete sto di terra. No, 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 lo rispetto semplicemente molto, 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 molto. Ragazzi, non compiamo da Burgess. E soprattutto... Neanche vorrei da Burgess. I sushi non lo poteranno. Ma qualsiasi ciccio da Burgess prendiamo 80 euro a prendere 5 minuti. Il fatto è che la pizza altrimenti mi ha distrutto. E allora va bene la pizza. Per me va bene. Anche a me va bene la pizza, ma non quella all'altra. Va sempre la stessa pizza. Frullato, secondo me sei anche un bel ragazzo. Non lo so. Però era buonissima la pizza. La pizzeria era buonissima, ma c'è qualcosa che non andava in quell'imposto. E il fatto è che era un po' pesantuccio, eh? Pizza! Per entrambi. Ah che meraviglia. Non so a chi piace. Oddio, Dio. Ah! Ah! Ah, ovviamente. Ah 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 ah! Ciccio! Dai una fragolina me la spazio. Dai fa chi ha l'alperitivo! E io che pensavo che fosse solo quello quando l'ho vista del primo! E ce l'ho prese apposta per tutti! Ma quando l'hai prese? Eh... Sto metto io a manca farla spesa. Super Danny Metal. Super Danny Metal. Frago le panna. Bro posso, anch'io. e la pancia si fa capanna è la seconda che prendi ma è così di se vuole affatto incendere il suo è più di merda ma sono gigantesche si erano state coltivate con l'uranio ma veramente guarda questa arrivano dalla basilicata due piccoli occhietti non so cosa dovrei fare ma sicuramente lo farei meglio di cosa parli? penso che devi farlo qualcosa no? ah il cerbero ma di che parlate? non so certo bro da un plicco di cosa parlate? ah cosa parliate dal cerbero bro? vabbè ma sei un pargolo sei un infante di cazzo sugo d'amore ma neanche le fragole neanche le fragole bro neanche le fragole come i bambini con la mamma sto dentro la colla che si prende un po' però che un po' aspetta che ecco però posso prendermi un'altra? oh che mi volete ammazzare? chi fa so pezzo di cazzo Dani? 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 Gian Piero? si? grazie di aver messo un po' di zucchero in questa amara giornata Dani no è amara? un po' si mi dispiace poi mi racconterai perché è sempre questa cosa dei soldi sono spariti ti prego Naikan ti prego ho capito il video ti prego aspetta ti prego aspetta Naikan è tre cazzo di ore in mente sto video aspetta bro questa panna è buonissima me ne escono del gruppo me ne escono ti capisco ciccio BASTA che succede? ma smettite di sbrodolare come dei pezzi di merda ma non la vedeva non sape di usare le labbra ma siete l'incoglione di tutti no 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 ora voglio vedere dove è sbrodolato aspetta un attimo bro cammina a torci del mio cellulare quel po' controllo dove è sbrodolato bro se è sbrodolato mi dai un pugno bro non sono stato io poi perché ero qui bro ero qui dove? 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 e toglili dal cazzo toglili dai tu cos'è? ah un coriendolino? questo? dove? sempre lì dove non ce l'ho io poi? qua? non ce l'ho io ma? la? no daniele quattro ma perché mi racconta le cazzate? ma come una goccia dieci sono stato e io tenerela qua? venerla sulla cama e tenerela qua? di? sono? stato? io? clippate ragazzi la violenza l'urlo non fa micchia ma non ce la fate? nessuno a chiedere un dio porco di scusa non me ne fotte un cazzo no 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 mi dispiace no a me dispiace le regole sono regole per fare il tetrino di roco sono stato io no no non ce la fate però pure tu cazzo bastarda la costituzione scherzo mi dissocio è un foglio scritto bene fuori è un foglio scritto bene fuori sono e io ti giuro anche uno vaffanculo ha detto ogni cazzo di molto qualcuno vuole un abbraccio train io zin 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 oh che va bene così vedi che è abbastemmiato che ha fatto ciccio fuori ma per cosa ha sbrotolato con mattella e voleva dirmi che non era vero e mi fai stavo daniele e tu eri qui non l'ha fatto l'altro eri qui ha detto non è stavo daniele no no era un laio e io pure non ha capito pure lei era qua e poi ci c'era qua ragazze ragazzi si è nervoso ma lo sono sempre un po da un po di addolcire sta zitto capiamo il vincitore e me ne vado via lo giuro io hai bestemmiato hai bestemmiato tutti escono fuori hai bestemmiato e io ho detto che capiamo chi cazzo vince e me ne vado ma dal balcone ragazzi c'era qui c'era scala antincendio ok quindi decidiamo la seconda leggi la donazione che dice una roba su di me che non ho capito calmo 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 ma bannami sta minchia coglione bro se vuoi guarda non devi dire niente non devi parlare non devi parlare non parlare manipolatore cicciolo io sto per morire non ce l'ho no mamma mia mamma mia ma può essere fatta di fabbrica a stella mia vita fabbrica la cosa ho sbaglio nel senso parlavi di quello no si si ha ragione scusa ok ok quindi chi era secondo che arriva quindi ora compro il lecronomico ne vedo se funziona ma è successo è successo è arrivato qualcosa su deve uscire ciccio capire che è ciccio sto scrivendo un po' di persone ma dov'è mai deve uscire ciccio va bene no intanto non esco tanto di quella merda di destra ma panna che succede 2 la chat più merdosa la chat di ometano in confronto è bambini neonati è perché so che sono un po' cattivo no troppo vero? c'è un po'